zombie apocalypse weee bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un nostro nuovo video eeeh io sono rosita e io sono rositina ma che cosa vuol dire ma perché e io sono la fami e lei è la fami io sono xyuder e ragazzi oggi volevamo fare il video riassuntivo per voi ragazzi che vi si ascolta io ho tutto un discorso da fare che mi sai per continuare la monetizzazione no non si stringe si deve seguire una linea per la monetizzazione la pubblicizzazione dei video e sono qua a cagare i soldi siamo qua ragazzi a fare questo video riassuntivo per dare la possibilità a proprio a te che ha installato WhatDen da poco di avere tutti i codici funzionanti promozionali che puoi inserire nel tuo profilo per avere delle risorse gratuite su WhatDen e di che risorse parliamo? se non lo avessero fatto e perché i nuovi iscritti i nuovi codici vanno a vedere i codici su giusto non capisce quando le parlo non so perché non mi sente le puoi avere le gemme puoi avere gli eroi e puoi avere anche dell'oro gratis allora noi abbiamo dei codici che adesso daremo e vi ricordo ragazzi che per andare ad inserirli dimmi un po' amore dov'è che devono cliccare? un numerino quale? ce ne sono milioni di numeri due ma no due devi dire bene noi abbiamo il due che fatica brava devi generalizzare cliccare ragazzi in alto a sinistra sul numero del livello posso cliccare sul nostro questo è un player che abbiamo creato apposta per l'occasione si chiama testo codici a nastro e andiamo come si dice nel bottone verde quello che vedete qua come vedete qua ragazzi per codice promozionale esatto 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 ciclicate sembra una cosa ciclica sembra ciclicate sopra esatto e andiamo ad inserire il primo codice amore mio come si pronuncia questo codice super mega no quello sopra ma porca Andre Ritzker va beh il codice si pronuncia handle with care no Andre Ritzker che non so probabilmente il nome di qualche tedesco chiamato così da non si sa chi ragazzi andiamo a fare incolle è vero che non posso usare il mouse handle with care ragazzi andiamo subito con invia codice e vediamo se funziona ancora ragazzi sciamma handle with care ovviamente funziona è uno degli ultimi che hanno rilasciato vi regalerà subito subito le tortine 5 ma la torta le tortine della fami e questo è il primo codice e funziona e quindi ragazzi andiamo a vedere il codice numero 2 ragazzi già abbiamo notato fuori onda ovviamente che alcuni codici li hanno tirati via e quindi la situazione comincia a farsi abbastanza critica ragazzi sono sempre di meno ma fai vomitare se continui a far ballare sta gallina come si dice sono un pochettino continuano a venire meno andiamo a provare ragazzi questo codice numero 2 che vi regalerà no questo 15 papà che difficoltà con te fare i video appunto ma dovresti essere un pochettino più è vediamo se entra grandpa ragazzi grandpa andiamo a provarlo andiamo a provarlo a farmi fa no con la testa ragazzi e la sciamana fa saia invece funziona ragazzi questo qua è un codice di un mese fa amore mio a grampa l'ho messo quando ho iniziato a giocare a what the end ah ecco perché ecco perché allora ragazzi intanto noto che ci sono dei piccoli lag purtroppo è colpa di bluestack vi chiedo scusa in anticipo spero comunque che troviate il video molto molto interessante e che vi sia utile per poter iniziare al meglio la vostra avventura in what the end andiamo quindi ragazzi con il codice numero 3 ma prima voglio ricordarvi ragazzi di lasciare un bel like non puoi mollare la gallina che va giù un bel like ragazzi per questo video se vi sta piacendo se lo trovate interessante mi raccomando iscrivetevi anche al canale andiamo subito allora con il codice numero 3 iscrivetevi al canale codice numero 3 fate i buffo crystal cosa ci da crystal cosa ci da questo funziona perché quelli da charge vogliono scaricare le torte proprio a nastro andiamo a fare in via codice vediamo se va e buia e funziona e cassa crystal ragazzi regala 10 mala torta vi ricordo che è un semi incantesimo se volessimo chiamarlo così andate a provarla perché con l'aggiornamento che hanno fatto la mala torta diventa una carta molto interessante in quanto attacca direttamente come lo dire così non lo sa attacca direttamente l'evocatore avversario e quindi ragazzi andiamo a provare il codice numero 4 questo deve funzionare ancora assolutamente perché l'hanno rilasciato solo pochissimi giorni fa quindi non ci perdiamo in cui squiglie ieri pochi giorni fa perché oggi è ieri ma loro lo vedono domani e quindi sarà l'altro ieri vigliaca non capisce la temporalità nel fare i video non la capisce ma lo sanno che sono così è certo che lo sanno certo vai 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 molto semplice ragazzi gg perk 2 se avete visto il mio video ieri sicuramente ve lo ricorderete benissimo e l'avrete già inserito codice numero 4 bam bubumba bubumba 50 densi dorati ragazzi e 50 gemme codice bello sugoso non lo puoi dire sempre perché abbiamo tagliato quello di prima per loro è sempre cosa è interessante dice la nostra ubriaca di turno vedi è interessante quindi già 4 codici ragazzi aggiornati a oggi ma lo provo lo provo 4 codici aggiornati all'8 ottobre ragazzi vi serviranno sicuramente per andare con una marcia in più nel vostro profilo di what the hand devo provare quindi il codice numero 5 ragazzi questo è flower power il codice vecchissimo ragazzi secondo me vi darà 10 alcolizzati 10 alcolizzati ragazzi ve li troverete sotto casa e poi saranno fatti i vostri tirarli via attenzione andiamo a fare invia codice e boom arriva funziona ancora ragazzi 10 alcolizzati di nuovo e quindi super 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 ragazzi arriviamo veramente 5 5 arriviamo ragazzi allora all'ultimo codice e credo che potrebbe ancora funzionare speriamo speriamo che funzioni questo è velo sugoso ragazzi questo codice digli cosa gli da diglielo diglielo 3 epiche e 1000 di gold qua subito i like proprio subito i like se funziona ancora il video è molto interessante andiamo a inserirlo dopo chiamo la 10 euro vediamo danni screw ragazzi danni screw è un sugoso vediamo se va vediamo se va eeeh funziona è sugoso come il sugo dalle polpette arrivano 3 smith che sono carte epiche e 1000 di gold ragazzi e 1000 di gold beh ragazzi io spero che questo video anche se con le Jerry Laga mi sia piaciuto mi leggi nel pensiero no perché ormai lo so spero che vi sia piaciuto lo spero anche lei che vi sia piaciuto ragazzi mi voglio complimentare con voi per tutte le mitiche visualizzazioni che state facendo in tutti i nostri video ogni giorno grazie davvero ragazzi grazie davvero tantissimo rosita la rosita la nostra rositona che ci segue in tutte le live di what the end io vi ringrazio tantissimo per averci seguito noi vi ringraziamo tantissimo e ci vediamo alla prossima ciao ciao